Ciao a tutti, qui è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Fortnite. Infatti, il primo video che ho fatto di Fortnite su questo gioco è stato proprio la live, che vi invito a riguardare se vi può interessare il gioco, anche se ho fatto parecchio schifo. E oggi siamo qui per farvi una sorta di tutorial su come andare sotto la mappa del gioco. Infatti è uscito un bug, un parco gioco quando hanno messo queste macchinette, proprio perché con queste macchine viste si possono creare oggetti, oggetti, dovunque c'è oggetti, possono creare strutture enormi, adesso noi possiamo buggarci e andare sotto la mappa. Quindi dobbiamo trovare la nave, è questa, eccola qua, e dobbiamo dirigerci verso al centro dell'isola. Adesso andiamo subito. Ok ragazzi, ci siamo, come potete vedere basterà lanciare la nave qua, cioè al centro del buco dell'isola, e praticamente voi potrete andare sotto la mappa. Quindi come vedete qua sembra che costruisce, però se noi la buttiamo precisamente al centro, così, come potremo vedere ha costruito le navi attorno. Quindi adesso noi non tocca che fare options, rigenerazione, applica, adesso noi moriamo 4, 3, 2, 1, boom! Siamo sotto la mappa, ecco, molto semplice il bug, e ci sono anche le macchine dello shop, in cui potete prendere oggetti, è molto semplice. Come vedete, cioè sono sotto la mappa, potete fare quello che volete. Quindi spero che il bug vi sia piaciuto, è molto, come vedete, semplice da fare, potete andare qua sotto, carino, fare un parco giochi, con gli amici, volete fare qualche sfida interessante. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando condividete con tutti i vostri amici per farlo conoscere, lasciate un like, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!